Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo e dicevano costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe di lui non conosciamo il padre e la madre come dunque può dire sono disceso dal cielo Gesù rispose loro non mormorate tra voi nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da dio chiunque ha ascoltato il padre e ha imparato da lui viene a me non perché qualcuno abbia visto il padre solo colui che viene da dio ha visto il padre in verità in verità io vi dico chi crede alla vita eterna io sono il pane della vita i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo parola del signore proseguiamo anche in questa domenica l'ascolto del grande discorso sul pane della vita e questa grande catechesi in cui Gesù sempre più apre i tesori della rivelazione di se stesso porta come sempre succede quando c'è una maggior luce a una grande divisione Gesù ha detto che è il pane della vita lui è questo pane del cielo che sazia la fame di vita di felicità di senso del cuore degli uomini i giudei che non sono qui tutti gli ebrei nel Vangelo di Giovanni ma sono gli avversari di Gesù naturalmente non capiscono e si chiedono come può essere lui il pane dal cielo disceso dal cielo lui è il figlio di Giuseppe conosciamo il padre la madre conosciamo nei Vangeli questa difficoltà l'umanità di Gesù l'essere uno di noi eppure eppure dice Gesù e non arretra di un centimetro diremmo continua la sua rivelazione io sono il pane della vita i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti ecco le cose del mondo non saziano il desiderio di vita piena ed eterna questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia chi mangia questo pane entra in una vita diversa nella prima lettura di questa domenica abbiamo un episodio molto bello anche drammatico del profeta Elia che il seguito dai sicari inviategli dalla regina Gezabele a un certo punto dice a Dio io voglio morire basta signore non voglio più fare il profeta non ne posso più e il signore con un angelo che lo un inviato che lo sveglia gli dà da mangiare del pane e un orcio d'acqua con la forza di quel cibo dice la scrittura camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio l'Oreb bellissima immagine ecco che cos'è il pane dell'eucaristia è il pane del viaggio è il pane del deserto è il pane di chi non ce la fa di chi si sente triste è il pane per il cammino verso il monte di Dio verso la meta e questo pane dice Gesù è la mia carne per la vita del mondo è proprio la persona di Cristo che nutre la nostra sete la nostra fame di speranza è proprio lui è proprio Gesù l'unico che ci può accompagnare nel cammino della vita sulla terra all'ingresso nella vita piena del cielo è Gesù che nutre tutto ciò che di meglio c'è in noi con un gioco di parole potremmo dire da vita alla vita tante volte anche noi possiamo aver fatto questa esperienza quella di Elia di non farcela più di non poterne più di dire al Signore basta non ce la faccio più Signore ecco andiamo da Gesù nutriamoci dell'eucaristia nutriamoci della sua parola della sua persona del suo della sua presenza del suo ascolto e allora ritroveremo la strada ritroveremo la forza ritroveremo la gioia